Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qua con un video veramente diverso dal solito, quindi lasciate almeno 300 like perché oggi ragazzi parleremo delle cose che vorrei vedere su FIFA 19, delle cose che sappiamo che ci saranno, ne parliamo un pochino, delle cose che sono state già liccate e soprattutto ragazzi, io domani avrò la possibilità di provare FIFA 19 dal vivo qua a Londra alla FIFA E-World Cup e quindi lunedì vi porterò un video dove vi spiego quali sono le nuove future, cosa ho provato e cosa ho capito dal nuovo gioco, perché comunque sia provandolo avrò subito la possibilità di capire cosa ci sarà sul prossimo FIFA. Lo proverò insieme a Enzo che è il nostro analista, il nostro coach, in modo che lui mi possa aiutare a capire effettivamente cosa è cambiato, come funzionano le tattiche, come funzionano le future. Ci studieremo un pochino insieme al gioco e lunedì uscirà questo video dove vi spiegherò tutte le novità. Nel corso del video ricordate di farmi sapere cosa ne pensate di queste nuove future se siete d'accordo con me che vorreste le cose che elencherò, fatemi sapere invece per voi ragazzi cosa vorreste in FIFA? Scrivetemelo qua sotto nei commenti che sicuramente ci sarà l'occasione per discutere con EA e la FIFA per capire come meglio strutturare le competizioni o come meglio migliorare il gioco, perché loro ascoltano molto il feedback della community dei giocatori, degli influencer. Quindi scrivetelo qua sotto nei commenti che cercherò di riepilogare tutto assieme e un giorno lo proverò a EA. La prima cosa ragazzi che voglio proporre, che è una cosa che non molti ci pensano, non molti ci fanno caso ormai è andato abbastanza al dimenticatoio, vorrei che si desse un pochino di creatività nell'utilizzo dei crediti e il catalogo. Ragazzi è anni che faccio centinaia di migliaia di crediti in catalogo e a parte inizio gioco dove effettivamente è utile perché comunque ottieni quei crediti che ti fanno continuare un po' di crediti ogni partita e comunque ti aiuta a partire con un minimo di 50-60 mila crediti. A parte magari dei guanti, delle maglie, delle scarpe, dei palloni delle vittorie in stagioni normali, non è che ci sia molto di creativo. Io direi di aggiungere qualcosa di più particolare. Banalmente su Foot sarebbe figo che ci fossero dei giocatori specifici che puoi ottenere solo con un sacco di crediti al catalogo. Un pacchetto magari dove troverai per forza un informe, anche quello ottieni con un sacco di crediti. Magari anche delle sfide che siano ripetibili pagando più credit. Insomma secondo me sarebbe interessante trovare una maniera creativa per sfruttare questa cosa che è già in FIFA e si tratta solo di dare alla fine nuovi tipi di premi. Avete presente ragazzi l'arena, le probabilità, tutte quelle modalità dove puoi provare le cose, ok? Secondo me quella modalità sarebbe una figata se si potesse giocare online in co-op con gli amici, con un tot di amici. Perché? Perché questo ti permetterebbe di mettere alla prova la finalizzazione, strutturare degli allenamenti, provare le skill. Insomma immaginate tipo gli allenamenti in stile calcio online. Tipo che ne so, noi siamo la Roma per esempio, io Dami con Enzo e Runners e Zim ci mettiamo tutti lì con Colin che ci guarda come manager e ci dice ora fate i tiri e così impariamo a tirare meglio tutti assieme, cerchiamo di migliorarci. Secondo me sarebbe una figata e secondo me la EA dovrebbe lavorarci e aggiungerlo perché si tratta di rendere online qualcosa che già esiste dentro FIFA, fare quindi delle partitelle e robe così. Secondo me sarebbe una figata. Voi cosa ne pensate? Una cosa che in realtà è un po' sulla bocca di tutti e che io sinceramente farei perché non ritengo sia neanche così complicato è implementare FIFA Street all'interno di FIFA perché se ci pensate comunque sia una modalità che è sempre attatto, sempre divertito, in particolare off-season e divertente giocare con gli amici facendo skill e stupidaggini, secondo me sarebbe figo. Ovviamente è già sulla bocca di tutti perché in questi giorni è stato liccato il fatto che ci sarà la modalità sopravvivenza, last man standing all'interno di FIFA 19 dove semplicemente ragazzi vince chi elimina prima tutti i giocatori avversari. Ogni volta che segni la squadra avversaria quella che ha subito gol perderà un giocatore. Infatti se ci pensate bene è il periodo delle batte royale, mettiamo una modalità dove vince chi rimane per ultimo calza a pennello. Una cosa che c'era molto tempo fa erano le lobby private. Io mi ricordo che ai tempi mi sembra di FIFA 13, FIFA 12 fino ad allora forse, forse anche FIFA 14, non mi ricordo però. Tempo fa c'erano le lobby private all'interno di FIFA che in realtà si utilizzava molto per giocare i tornei di Virgin dove tu giocavi questi major match incontrandoti all'interno delle lobby private e secondo me sarebbe figo o rimplementare le lobby private o comunque permettere di giocare 2v2 online con gli amici perché non si può più. Una volta si poteva sfidare 2v2 degli amici e ora non si può più. Secondo me o tramite lobby private o in qualche modo bisognerebbe rimplementare la possibilità di giocare 2v2 tra gli amici perché è una modalità stra divertente, giochi con gli amici, cazzeggi un po', fai delle challenge. Secondo me ragazzi sarebbe anche molto importante ridare un po' di ninfa vitale al pro club perché onestamente non l'hanno più migliorata nel corso degli anni, non è che ci sia chissà quanto da fare all'interno di pro club per migliorarla, però magari sarebbe carino banalmente mettere dei rewards ogni volta che vinci stagione 1, che vinci una coppa magari che fanno ogni tot mesi, magari possono organizzare che ogni 6 mesi c'è una sorta di Champions League dove i pro club che hanno vinto più volte divisione 1 giocano la Champions League, visto che comunque la Champions League ci sarà, secondo me sarebbe molto figo magari fare questo collegamento tra pro club e Champions League. Allo stesso tempo ragazzi come ho suggerito prima per foot e per la modalità 1v1 farei in modo che comunque i giocatori di pro club possano allenarsi assieme magari giocando nella probabilità o nella partitella o nell'arena tutti assieme provare le cose, secondo me sarebbe una cosa molto figa e comunque si darebbe un qualcosa in più alla modalità pro club rendendola ancora simile al calcio. Oltre alla possibilità di partecipare a delle coppie fighe ogni tot di tempo, secondo me sarebbe figo anche aggiungere dei reward ogni volta che vinci a divisione 1, ogni volta che vinci qualcosa di importante, per dire può essere un kit specifico che vinci solo se vinci quella competizione. Può essere anche un reward che ti va a dare dentro foot, che se vinci a divisione uno tot volte ti dà 15.000 crediti su foot, ti dà il pacchetto oro rari con i giocatori rari, non so, ti dà qualcosa che comunque sia magari si collega anche ad un'altra modalità e magari ti porta anche un giocatore di pro club a interessarsi a foot perché giocando a pro club vince i primi su foot, si fa la squadra senza volerlo e magari dice lo provo perché ho già la squadra, capite? Quindi secondo me sarebbe un collegamento abbastanza semplice, comunque dai poco che comunque sia incentiva il giocatore a giocare. Parlando di foot hanno già aggiunto tante modalità per guadagnare i crediti, adesso comunque abbastanza facile se giochi tutta la stagione arrivare a fare una squadra forte. La cosa che secondo me potrebbero ancora fare, prendendo spunto dal successo di Fortnite, è aggiungere un season pass che può essere trimestrale, che può essere annuale, che non deve costare chissà quanto ma che sia basato su reward con questo season pass ogni volta che sali di livello, oltre a beccare magari soldi nel catalogo che quello è il season pass gratuito aperto a tutti, magari dai un pacchetto, magari dai 200 FIFA points come loro danno le V-Bucks, magari dai il giocatore che puoi sbloccare solo lì, che ne so, Manolas 84 magari ti da Manolas 85, magari ti da un pacchetto dove trovi un informe, insomma secondo me si può lavorare sui rewards perché ci sono tante cose che non vengono ancora sfruttate e che magari nel corso degli anni sfrutteranno. Parlando di rewards cercherai anche di migliorare la possibilità di trovare il reward all'interno dei pacchetti perché onestamente è troppo randomico e comunque si diventa veramente quasi gioco d'azzardo ed questo è rischioso anche per il futuro competitivo perché ci potrebbero essere problemi egali se col tempo dovesse saltare fuori che è troppo randomico e diventa appunto un gioco d'azzardo perché comunque spendi i soldi ed è random quello che trovi. Infatti per prevenire questo hanno già fatto un'aggiunta che si sa che ci sarà dal prossimo anno, ovvero mi sembra che nella descrizione ci sarà scritto la percentuale di possibilità che hai di trovare un buon giocatore e questo che comunque ti dice già stai spendendo soldi in quello sai che hai poche possibilità quindi sono cavoli tuoi come per dire le sigarette che c'è scritto rischio di morte. Parlando di food champions secondo me le cose a fare sono sempre le solite no speed lag, no glitch, un gameplay comunque costante e poi per quanto riguarda i pacchetti vorrei che per dire se uno fa top 100 è sicuro di trovare uno dei top degli informe non che se fa top 100 tutto l'anno magari uno che ne so fa top 100 tutto l'anno e non trova mai un giocatore buono che gli fa dare i crediti mentre magari uno che fa oro 2 mi trova cristiano ronaldo ci sa che deve essere randomico e ci vuole un po' di culo e anche chi non è forte trovi giocatori però secondo me deve essere premiato un po' di più il fatto di chi è forte rispetto a chi non lo è. Una cosa che a mio parere sicuramente dovrebbero fare è migliorare i server o aumentare nel numero perché ad oggi in europa mi sembra che ce ne siano solo una francoforte una londra questo significa che noi italiani che siamo lontani da entrambi server anche se sia a milano che non è lontanissimo magari da francoforte rispetto che ne so a roma comunque sia non sarà mai come giocare a francoforte o a londra io vi assicuro che sono stato a londra un mese e a londra il gameplay qualunque orario giocavi era uguale era fluido magari capitava la partita storta in cui c'era speed lag però se hai una buona connessione a londra il gameplay va sempre bene in italia se hai una buona connessione puoi giocare solo in certi orari cioè io banalmente quando sono a milano che ho una buona connessione che sarebbe sufficientemente potente per giocare con un diciamo un gameplay fluido non è abbastanza perché perché comunque sono in italia e quindi al mattino va sì abbastanza bene il pomeriggio va benino il venerdì malissimo il sabato domenica a volte la sera invece solo sul tardi inizia ad andare bene e questo è un problema perché in italia si è limitato nei momenti in cui giocare quindi questo non succede solo qui succede in spagna succede in brasile ovviamente in alcune nazioni però incontri i giocatori più forti perché sei in un certo continente in altri no e diciamo che in generale sarebbe bello che questa cosa fosse equa che quindi i server fossero alla portata di tutti o comunque trovassero un modo per rendere questi server e vi assicuro che non è semplice perché se fosse così semplice l'avrebbero già fatto però sarebbe bello che questa cosa riuscisse a risolversi in modo che comunque tutti i giocatori giochino equamente abbiano la stessa possibilità o stesso gameplay sempre uguale costante che non cambia o muta in base a quanta gente sta giocando oppure non so in base a cosa muti però sarebbe bello che questa cosa si sistemasse quindi niente spin lag niente ritardi gameplay costante insomma queste cose sarebbero fighe parlando invece di altre cose che hanno riccato che sappiamo che hanno aggiunto è stato riccato che probabilmente ci sarà il take the hell di griezmann perché dentro madden ci sarà è stato ufficializzato sarà dentro madden 19 quindi è probabile che vedremo la l all'interno di fifa 19 già immagino la gente che impazzisce lancia il monitor giù dalla finestra in una partita di weekend league se uno gli fa il take the hell parlando di cambiamenti gameplay già noti una cosa molto figa che hanno fatto aggiungere pitch notes che in realtà è una cosa che c'è praticamente su tutti i giochi che non sono nient'altro che le note degli sviluppatori community manager staff di e che spiega come modificato il gameplay come è cambiato la patch cosa aggiunto cosa ha tolto nello specifico e non solo un classico patch nota nel gioco con qualche dettaglio dovrebbe essere una cosa abbastanza sviluppata diciamo che si riservano di farlo il più possibile in modo da tenerci aggiornati sugli effettivi cambiamenti senza che le dobbiamo scoprire in game sono molto contento che hanno aggiunto il time finishing anche se da quello che ho letto sembrerebbe che non è obbligatorio utilizzarlo che è una cosa da impostare quindi questo è interessante perché sia da impostare a mio parere per esperienza conoscendo fifa quando aggiungono una future è sempre rotta è sempre baggata per la stagione in cui l'aggiungono quindi probabilmente se è selezionabile significherà che chi tira normale ha delle percentuali di segnare o no abbastanza randomiche mentre chi usa il time finishing se è bravo utilizzarlo probabilmente segna 9 volte su 10 è possibile che succeda una cosa del genere quindi sarà interessante vedere questo altrimenti sarà semplicemente solo questo e aumenterà la skill gap in ogni caso l'aumenterà perché se l'hanno reso difficile l'aumenterà se sarà semplice non sarà nient'altro che un cambiamento di tasti ma se sarà difficile aumenterà la skill gap e sarà molto figo sono anche molto contento che hanno migliorato le tattiche aggiungendo le dynamic tactics noi che abbiamo un analista in particolare sarà molto interessante vedere queste tattiche dinamiche perché le proveremo vedremo un po come cambieranno le cose e secondo me ci sarà un po più di studio di tattiche perché sembra che cambieranno veramente il modo in cui la squadra si muove in maniera ancora più netta rispetto ad ora e poi ultimo ma non per ordine ci sarà l'active touch lo sapete significa semplicemente che hanno reso più creativo il tocco il dribbling il controllo del pallone questo dovrebbe significare che ci saranno più skill ci saranno nei movimenti nuovi quando tocchi il pallone quando ti giri quando lo controlli vedremo poi effettivamente in game come queste ultime cose che vi ho nominato impatteranno il gameplay e il nostro modo di giocare direi ragazzi che per oggi è tutto spero che vi sia piaciuto questo video ho cercato di riassumere un po tutte le cose che mi piacerebbe vedere in fifa che sappiamo che ci saranno che hanno già annunciato che hanno leakato e in più ci vedremo a lue di perché comunque come ho appena detto avrò modo di provare il gioco domani e quindi vi porterò tutte le novità spero che vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi attivate la campanella per essere pronti per il video ci vediamo e di ragazzi bella a tutti